Raffaele Giamundo, MLS Replat, responsabile della formazione a Sinergie 2018 a Milano, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Allora intanto un commento a margine dell'evento. Parola chiave Sinergie è esattamente quello che ho riscontrato in questo incontro, incontrarci con dei player e dei colleghi che operativamente ogni giorno incontriamo sul territorio e riuscire a trovare un comune denominatore nella nostra attività quotidiana, appunto sotto la parola chiave Sinergie è un'opportunità e quindi interessantissimo e incredibile. Oggi hai fatto un intervento direi degno di nota perché a rispetto dell'azienda che la presenti non hai parlato di piattaforma ma di protocollo tra operatori. È da qualche tempo che stiamo lavorando su questo tipo di onda qui, nel senso che sicuramente c'è un aspetto tecnologico dietro l'MLS ma non ha senso mettere come punto focale quello. Se vogliamo creare veramente l'aggregazione e la sinergia in Italia bisogna sicuramente passare attraverso una standardizzazione dei processi. La frammentazione di questa categoria è ancora forte, speriamo di poter dare il nostro contributo in tal senso e attraverso queste procedure, attraverso questo protocollo avvicinare un po' tutti i pezzetti del mercato insomma affinché riescono a prendere quote degne di nota e degne della professione dell'agente immobiliare. Grazie mille, Raffaele Giamundo, responsabile di formazione MLS Replazzo. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.